I cittadini purtroppo sono stati spogliati della loro identità, dei loro averi, quello che è stato il risparmio di anni. In modo particolare siamo stati truffati sulla fiducia che già Renzi e Padovana all'epoca ci avevano detto che il sistema bancario italiano era solido e sano. Non è stato così. Oppure il sistema era solido e qualcuno ha voluto rubare, come l'ho sempre detto, i risparmi a oltre 200.000 famiglie. Che siano rimasti mutande non è un modo di dire e Loris Mazzorato, già sindaco di Resana, lo ribadisce fuori di metafora. Nonostante i pochi gradi sopra lo zero, il sit-in di risparmiatori fuori dall'aula bunker di Mestre è più di un promemoria e va oltre il processo di giornata. Oggi si vuole processare consoli, però io dico sempre, consoli non è altro che un capo respiratorio. Lo ricordo sempre che a novembre 2014 Veneto Banca ha superato gli stress test di Banca Centrale Europea. I risparmiatori veneti sono state le vittime di questa operazione. Il territorio veneto è stato privato di un sistema finanziario che era estremamente importante per il sistema economico veneto. Oggi il Veneto non ha più istituti di credito proprio. La partita non è solo giudiziaria ma politica. In tutti c'è la consapevolezza che solo lo Stato può riparare parte dei danni subiti dai truffati delle banche. Il riferimento è al fondo per i risparmiatori. La legge FIR mette a disposizione dei risparmiatori 1 miliardo 500 milioni. Quella base è stata erogata, avanzano 540 milioni. Quei 540 milioni che fanno parte della dotazione FIR ancora non sono stati distribuiti ai risparmiatori. Noi chiediamo che lo Stato onori le proprie leggi e paghi. 383 mila e 50 euro. Risparmi di una vita. Di tre generazioni. 160 mila euro che erano ancora delle azioni di mio nonno, di mia mamma e io in fiducia di questo ho pensato di utilizzarlo come la musigna, come suol dire. 15 anni che sto soffrendo. Vado in pensione e rimango senza soldi. Potevo avere le mie giornate, decidere, fare, compiere, il piacere di vivere la vita. Me l'hanno tolto. Potevo avere le mie giornate. Potevo avere le mie giornate. A me l'hanno tolto. Ha preghesiao vorrei. Potevo avere i giornali.